Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso ET, il canale dedicato ai computer vintage. Mi trovo al Varese Retrocomputing 2024 e per la prima volta sul canale Valoroso ET abbiamo Lorenzo Bolla che ha fatto un'invenzione per i Commodore 64, Commodore SX 64 e in futuro anche per Spectrum. Ci vuoi parlare un po' di che cosa hai realizzato? Sì, si tratta di una piccola cartuccia, un oggetto che vuole andare a sostituire numerosi oggetti che già esistono sul mercato ma vuole concentrare tutto in un'unica soluzione. Sembra molto interessante come situazione. È un qualcosa che nasce dalla passione che tutti qua ci accomuna. Esatto, tutti accomunati dalla passione per l'elettronica e computer vintage. Con questa cartuccia è possibile emulare diverse architetture hardware, quindi posso andare dall'emulazione della semplice cartuccia del Commodore e andare a caricare il singolo gioco. Essendo una cartuccia stiamo parlando di CRT, in questo caso carica i file CRT e li lancia direttamente sul computer. Ok. E questa è la prima funzionalità. Ah, è già caricato? Sì, è immediata. Se cambio, immediatamente carica il secondo. Ah, super veloce. Super veloce. Quindi questa qua emula una cartuccia che si attacca alla porta d'espansione del Commodore 64 SX-64. Anche che voi vedete a video l'SX-64 come computer, ma in realtà questo è compatibile con il Commodore 64. È esattamente un Commodore 64 in versione portatile. Trasportabili, trasloccabili. La cartuccia può anche emulare il floppy, quindi qua dentro posso andare ad accendere la modalità floppy. E qui ho tutte le emulazioni per poter caricare il floppy disk drive. Quindi questa adesso si collega dove? La porta IEC ed il computer? Sì, è attaccata alla porta IEC del computer. Quindi lei prende alimentazione dalla porta d'espansione, però poi dietro si collega la porta IEC. Che sull'SX-64 è? Qua. Questa. Questa è l'uscita video collegata al secondo monitor. Ah. E questa è la porta parallela. Sì, la user port. La user port che viene usata per l'emulazione modem. Ok, perché esatto, la tua interfaccia fa anche modem. Sì. Allora, vediamo un secondo, ritorniamo qua davanti. I due monitor fanno la stessa cosa, giusto? La stessa cosa, questo è solo per vedere un po' più in grande. Ok. Ma è come si lavorava anche ai tempi, perché in modalità portatile utilizzavi il suo monitor piccolo, ma dovevi avere anche la vista molto buona. Sì, esatto. Poi collegavi il monitor più grande. Il monitor esterno, esatto. No, l'SX-64 è veramente un bel computer. Io ne ho uno in collezione, però senza tastiera. Anzi, ne approfitto per chi di voi che sta guardando questo video ha una tastiera che mi vuole vendere, si faccia avanti a prezzi umani, possibilmente. Questa è un'altra applicazione della stessa cartuccia, che in realtà sta funzionando in modalità stand-alone. Ok, e questa qui è collegata quindi a questo monitor? È collegata a questo monitor e in questo momento viene emulato in hardware il gioco arcade del Pac-Man. Quindi questo che sta girando in questo momento è il Pac-Man originale del tavolo da bar, proprio. Emulato in FPGA, qua sopra c'è una logica programmabile. Esatto, parliamo un po' di come è costruita questa cartuccia. Questa cartuccia ha al suo interno una grossa FPGA logica programmabile, all'interno della quale è possibile emulare praticamente di tutto, qualsiasi cosa, solo questione di fantasia. Il progetto è messo open source, quindi ci sono disponibili schemi elettrici, a breve metterò anche dei template. Per chiunque voglia contribuire ad allargare il parco di software e di possibilità hardware, è ben libero di farlo. Il sito internet dopo lo mettiamo in descrizione. Dopo lo mettiamo in descrizione. Quindi controllate in descrizione perché metterò il sito internet dove ci saranno dentro gli schemi, giusto? Schemi elettrici e a breve anche un template di base dal quale partire per agevolare chi non l'ha mai presa in mano ed è la prima volta che deve scriverci. Invece per quanto riguarda le funzionalità, quando la si utilizza collegata al computer, vedo che ci sono una serie di possibilità. La cartuccia in sé ha 2 MB di RAM, 2 MB di flash per poterci caricare anche tutte le varie cartucce, l'FPGA da collante che fa funzionare il tutto, è possibile avere anche degli ingressi e uscite audio previste per andare su interfacce cassette dello ZX Spectrum. Ah ok, perché giustamente questa interfaccia è versatile che può andare su tanti computer diversi. Esattamente. Cambierà il connettore. Al momento viaggia con il Commodore 64. Perché ha il connettore. Perché il connettore è questo. A breve farò una piccola interfaccia che convertirà questo bus, quindi con il doppio connettore, lo convertirà nel bus dello ZX Spectrum. Ok. Per cui poi sarà possibile caricare anche le ROM dello Spectrum e magari la tua interfaccia. Questo è il punto di partenza e piano piano svilupperemo... Beh, ma tu hai già sviluppato parecchio del software, perché il lettore delle cartucce già ce l'hai. Sì, c'è il lettore delle cartucce, c'è l'emulatore del front-oppy, c'è la seriale standard per chi deve lavorare con il modem o con le DBS, quindi quella standard del Commodore, la seriale veloce 9600 e la seriale esterna che va fino al 38004, queste sono già tutte emulate al momento. Sto lavorando sulla parte REU, che è l'interfaccia di espressione di memoria, e poi se c'è qualcuno che vuole contribuire... Esatto, ti aiuterebbe, perché stare a fare tutte queste cose in effetti ci vuole un sacco di tempo. Sì, il tempo libero che ho è poco, per cui... Esattamente, ma tornando alla modalità stand-alone, quindi da qui alla VGA, c'è un chip? No, ci sono semplicemente i fili. Ah, cioè quindi all'interno... Eh beh, giustamente, con un FPGA, come fai notare, puoi anche emulare tutti i segnali della VGA. Vengono emulati i segnali della VGA, i fili che normalmente sarebbero collegati al bus del Commodore 64 sono stati riassegnati come funzionalità per andare sull'uscita VGA, e da lì vado al monitor. Spettacolo! In questo momento ho caricato l'applicativo per usare il modem integrato, l'emulazione modem, fatta Zmodem, fatta in Wi-Fi, e con quello mi sto collegando al VBS Retro Campus, di cui abbiamo qui. La VBS di Francesco Sblendorio. Esatto. Allora, quindi al momento la tua interfaccia sta facendo sia da Drive, giusto? Sta facendo da Drive... Comunque è caricato CCGMS, che poi è il programma che serve per navigare all'interno delle VBS. Esatto. In più sta facendo anche da modem. Sta facendo da modem e ho l'applicativo che sta girando. A questo punto possiamo anche navigare nel mio sito, perché sono linkato alla VBS di Retro Campus io. Valoroso.it E questo è l'elenco degli ultimi articoli, tra cui anche quello sul Varese Retro Campus. in 2024. Ma non si legge di più. E qua c'è il monitor più grande, in effetti. Grazie mille, Lorenzo. Grazie a te. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e guardate anche gli altri video relativi alle interviste del Varese Retro Campus in 2024. Ciao. Ciao. Grazie a te. Grazie a tutti